Calabria i lavori ordinari e straordinari mezzi a segno da ANAS per migliorare la qualità delle nostre strade. In questo caso lungo l'intera arteria estesa dal viadotto Morandi a Cadanzaro è in corso l'installazione di reti metalliche di tipo antiscavalco che raggiungeranno i tre metri di altezza dotati in cima di un risvolto verso l'interno che impedisce fisicamente l'arrampicamento. Dobbiamo ricordare il ponte Morandi a Cadanzaro è stato spesso oggetto della cronaca con tentativi o purtroppo riusciti di suicidi. Le nuove barriere stradali sono munite invece di reti di protezione definitive, sono in fase di progettazione e verranno installate a conclusione dell'ultimo stralcio di importanti interventi di risanamento che ANAS ha in corso su un'opera storica di fondamentale importanza del patrimonio stradale calabrese.